Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti, l'argomento del video di oggi è una domanda che mi avete fatto su Instagram ma non solo, anche varie volte via email. Le ne fa perdere il riccio? Ebbene come ben sapete è tutto molto soggettivo, mi dispiace non potrei rassicurare ma veramente dipende dalla tipologia di capello e soprattutto di riccio, se è un riccio afro molto stretto è difficile che con le ne si vada a perdere appunto il boccolo, mentre se è un riccio un po' più morbido e un capello tendenzialmente mosso è probabile ed è possibile che in alcuni casi proprio perché le ne stratifica sul capello il capello si appesantisca e quindi tendenzialmente vada a perdere la forma del boccolo. Devo dire che in questi 4 anni mi sono capitati dei casi di alcune di voi che appunto mi avete detto che avete notato che da un capello che era tendenzialmente mosso nel tempo è diventato questo mosso si è perso, quindi si è perso il boccolo, mentre alcune di voi mi avete scritto entusiaste che avete ritrovato il boccolo di quando eravate bambine, è proprio un boccolo che non speravate più di vedere e grazie al fatto che avete utilizzato le ne e tendenzialmente prodotti senza silicone che si sa nel tempo tendono appunto a creare una guaina sul capello e quindi a creare il build up il che fa pesantire il capello e quindi porta appunto alla perdita del boccolo. Quindi assolutamente non posso rassicurarvi, vi posso solo dire di fare dei test e anche se mi rendo conto che è molto difficile, anche perché è un risultato che si vede nel tempo. Fatemi sapere qui sotto al video, anche perché sicuramente la vostra esperienza potrà tornare utile alle altre, qual è stata la vostra esperienza con le ne sui vostri capelli ricci sui vostri boccoli. Vi mando un grande abbraccio, ci vediamo nel prossimo tutorial, se il video vi è piaciuto lasciate il solito like e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao! Grazie a tutti! Grazie!